Si esce da Biancavilla con il minimo scarto, un risultato che lascia aperta la qualificazione e che segnale ti dà? La qualificazione, questa è la prima uscita che noi di fatto facciamo contro l'Aro. A mio punto di vista è la squadra più attrezzata per vincere il campionato. Noi siamo una squadra giovane, imbottita di 99-2000-2001 L'unica cosa che devo vedere oggi era l'aspetto caratteriale, quel piccolo dettame tattico. Abbiamo tenuto bene, Biancavilla ha fatto la partita come è giusto che sia perché hanno giocatori di categoria ben superiore all'eccellenza. Però sono fiducioso perché la squadra adesso verrà puntellata per come era già programmato. Abbiamo tenuto 90 minuti a livello fisico in modo più che ottimale. Quindi sono certo che comunque questa settimana arriverà qualche altro rinforzo, un rinforzo cercato e voluto perché non ci piace avere affollamenti senza motivo. Quindi la speranza è certa. Comunque la prospettiva è solo di miglioramento perché comunque se questa è una squadra giovane ci si può lavorare. Sì 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 ma tutto è vero la disponibilità da parte dei miei giocatori, quella c'è, non manca, spirito di sacrificio e sono certo che ci potremmo divertire.